La ricerca della bellezza nella riserva delle montagne della Duchessa nel Reatino. Per questa sera, per quest'area, nuovi strumenti per la salvaguardia. L'inviata è Gemma Giovannelli. Cervi, caprioli, poiane e grifoni, la presenza dell'aquila reale, il passaggio dei lupi e poi circa 40 specie di orchidei selvatiche, alcune rarissime. Qui ci troviamo a un'altezza di 950 metri e qui, come possiamo vedere, ci sono dei boschi misti di latifoglie, di querce. Inoltre faggete secolari, praterie d'alta quota. Siamo ai confini tra Lazio e Abruzzo. La Val di Deve, di origine glaciale, fa da confine, sia regionale che di riserva. Uno scrigno di biodiversità nel cuore dell'Appennino centrale in provincia di Rieti, all'interno della riserva naturale montagne della Duchessa, istituita nel 1990, che raggiunge il suo culmine con i paesaggi mozzafiato, che offre il lago della Duchessa, di origine glaciale, a 1800 metri. Da alcuni giorni quest'area di rara bellezza, 3.540 ettari, ha ricevuto con voto unanime da parte del Consiglio regionale l'approvazione del piano d'assetto. Si pone nelle condizioni di avere uno strumento amministrativo e normativo per gestire effettivamente l'area protetta e programmare anche tutte le attività all'interno di essa. Una sorta di piano regolatore che potrà tutelare e al contempo favorire lo sviluppo del territorio. È una buonissima notizia, adesso è possibile anche in alcune zone costruire attività ricettive, sia per gli enti pubblici che per i privati, e soprattutto alcune zone avranno una tutela più forte e più stretta. e c'è un occhio di riguardo alla convivenza tra allevamento, quindi attività economica agricola e turismo.